Salve a tutti, oggi treccia di pane con pesto Vedete che non mi sono messo nemmeno la cravatta perché oggi c'è del lavoro duro Del lavoro duro di gomito, di mano Cosa fa lei signore con quel forchettone qua? Pensa, le mette c'è paura, qui, oggi è il lavoro di olio di gomito Vabbè, venga, venga, vabbè, stiamo calmi Andiamo, via! Andiamo subito con la Carrellata degli ingredienti Questo è un piatto utilizzabile come ottimo antipasto O come stuzzichini per un fantastico aperitivo Con i vostri amici, con i vostri cari Stupirete tutti, non con effetti speciali Ma con questa ricetta Vediamo Venite, venite, vengasero Venga, 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 venga 600 grammi di farina tipo zero 40 grammi di lievito fresco Mezzo cucchiaino di zucchero Un cucchiaino e mezzo di sale Fino 50 grammi di olio di semi Ho utilizzato un olio di semi di girasole 160 grammi di pesto Oh ragazzi e ragazzi Il pesto mio è quello che faccio io Trovate la ricetta nel link qui sopra Attenzione però che nella ricetta Le quantità sono per una persona Perché quella sera mangiavo solo io Mia moglie c'è un'altra roba che insomma Vettesto ogni tanto Questo è per due persone Qui abbiamo 160 grammi di pesto Al quale ho aggiunto 3 cucchiai di olio Olio extravergine d'oliva No l'olio di semi Ah beh Per renderlo più fluido Perché dopo Lo dovremo spalmare sull'impasto Ah un altro ingrediente Che mi ero dimenticato di dirvi 300 ml di acqua tiepida A 30-35 gradi Dei 300 ml di acqua tiepida Ne prendiamo subito 100 ml Nella quale scioglieremo il lievito Con lo zucchero Quindi mettiamo Il mezzo cucchiaino di zucchero Inizio a mescolare lo zucchero Per farlo assorbire nell'acqua O meglio sciogliere Ecco qua lo zucchero si è sciolto perfettamente E adesso inizio a spezzettare il lievito Più riuscite a fare i pezzetti piccoli E meglio è Perché ci vorrà meno tempo Per farlo sciogliere Vedete mescolo sempre Con il manico di un cucchiaio di legno Io quando utilizzo il lievito Non utilizzo mai cucchiai in acciaio Preferisco sempre cucchiai di legno Non facevi prima prendere lo shaker Che usavi per il drink? Ho sempre detto Che i matti Sta dietro le macchine da presa Ma Se facevamo con lo shaker Veniva una schiuma Veniva un caffè shakerato Anzi lievito shakerato Sa che schifo Ma Ma un ragazzo ragazzo Ecco qua ho mescolato molto bene Aspettiamo 10 minuti Che il lievito si attivi Ossia deve iniziare a fare delle bollicine Come una macchina Che prendiamo la chiave e accendiamo Insomma Bisogna farla attivare una decina di minuti Un po' di pazienza E Mentre il lievito si sta attivando Sono già passati 5-6 minuti Setacciamo la farina Come al solito setacino Di mia suocera Perché se no Se offende Se non utilizzo questo Insomma Bisogna farle contente Ste suocene Ne metto un po' alla volta Farina setacciata Aggiungo il sale Adesso mescolo molto bene Sale e farina Perché questo? Perché il lievito non deve venire a contatto diretto Con il sale Molto importante Perché sale e lievito sono come cae gatto Insomma Eh Ci siamo capiti No? Un casino Ecco il lievito che ha iniziato a fare le bollicine Si è attivato Adesso pratico una cavità al centro E inizio a versare il lievito E iniziamo a mescolare Inizia il lavoro duro Bisogna mescolare molto bene Inizio ad aggiungere i restanti 200 ml di acqua Facciamo piano Un goccettino alla volta Un piantin E adesso la mettiamo tutta Sempre mescolo con il cucchiaio di legno Vedete? L'impasto comincia a prendere forma E adesso è il momento di aggiungere L'olio di semi 50 grammi Oh yeah! Thank you! Si deve amalgamare bene Perché ne è finita qui E dopo ci sono 12-15 minuti di olio di gomito Sulla tavola Ambe! Ovviamente Se avete l'impastatrice Potete utilizzare una planetaria Mettete i stessi ingredienti Come ho fatto io Nello stesso ordine E poi fate impastare Una decina-quindici minuti Oggi lo faccio a mano Per fare un po' più di scena Insomma una scena Nel frattempo Con la planetaria Se la usate Potete anche andare a farvi Un aperitivino Nel frattempo Invece io No Ecco qua Si è amalgamato abbastanza bene Per cui adesso passiamo All'impasto sulla tavola E vai con l'olio di gomito Per 12-15 minuti Later Ecco ci siamo quasi Sto impastando Da quasi 15 minuti Guardate come sta venendo bene Non ci sono sacche di aria All'interno Si sente con le mani Quando si impasta Quindi va benissimo L'impasto è appiccicoso Il giusto Appiccicoso Ma che si stacca dalle mani Già Luca scusami Fra un po' Mi sa che vado fuori sul balcone A registrarti Come hai spostato il tavolo È vero Perché con la forza Vengo avanti con tutto Tavola e tavolo Tra un po' Vado in giardino A impastare Dai vicini Così dopo lo mangiano loro Ragazzi Mi sono spostato Di un bel metro Adesso Mia moglie Mi ha rispinto indietro Come un calcetto Tavolo e tutto Ho preparato Una ciotola Che ho provveduto A oliare Con l'olio Di semi Di semi Di girasole Adesso Facciamo una bella palla Non è una boccia Per giocarci a boccia La grandezza È simile Ma E la trasferisco Nella ciotola Oliata Alla quale Applicherò La pellicola Trasparente Chiudiamo bene E lasciamo lievitare Per un'ora e mezzo Ci vediamo Tra un'ora e mezzo E' passata Un'ora e mezzo Un'ora e mezzo Come si dice Un'ora e mezzo Ecco il risultato Guardate quanto È cresciuta Ho provveduto A cospargere Di farina La nostra tavola Inizio a stenderla Un po' con le mani Poi mi aiuterò Con il mattarello Ne farò Una sfoglia Rettangolare Della grandezza Più o meno Di una leccarda Perché dopo La trasferiremo La treccia Sulla carta forno Nella leccarda Per La seconda lievitazione E poi per L'information Ecco vedo di fare Un rettangolo Più o meno Non deve essere Proprio Preciso Preciso Adesso Cospargo La nostra sfoglia Con il pesto Più o meno Lo cospargo Uniformemente Non è che ci vuole Tutta Sta precisione Ho provveduto A levare un po' Di pesto Col dito Eh ma Non ci scandalizziamo Le mani ce le ho pulite Ambe E ne lascio Questa quantità Che sarà Quella necessaria Per cospargere Dopo sopra La treccia Ecco adesso L'attrezzo Del mestiere Il disco Perché dovrò Tagliare in tre parti L'impasto Adesso Avvoltolo Le tre parti Viene molto bene Perché la pasta È molto morbida Eccezionale Venuta Non è necessario Proprio saldarla Precisamente Prima Marginalizzata Seconda Marginalizzata Passiamo Alla terza E poi Intrecciamo Per fortuna Che per la treccia Sono solo tre Non dieci Se no Mi sparavo Mi sa che Cambio mestiere Così Faccio il parrucchiere E mi metto a fare le trecce Alle ragazzi Con tutte ste trecce Che faccio in cucina Prima la treccia Di salmone Che trovate qui Un'altra ricetta Bomba E poi questa Provo a chiudere Un pochettino Giusto così Per non far Scappare Il pesto Non fuggi Non è che va via Da solo Adesso Dovrò fare la treccia Che per me È un po' difficile Perché insomma Cappelli Non è che Ho un po' di rispetto Unisco La parte Finale E poi iniziamo A intrecciare E chiudiamo L'altra parte Bellissima Un capolavoro Adesso La trasferisco Su una teglia Ricoperta Con della carta forno Ecco qua L'operazione Un po' difficoltosa Mi sono aiutato Anche con due Spatole E adesso Passiamo Con la seconda Lievitazione La copriamo Con un canovaccio Pulito Per 40 minuti Ci vediamo dopo Ciao Slurpa Slurpa Sono passati Altri 40 minuti La seconda Lievitazione Vediamo Se c'è rimasto Qualcosa Guardo io Qui Sì Signora Un attimo Ecco qua La nostra treccia Che fortuna È rimasto qualcosa Adesso 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 col pesto Rimasto Che avevate visto Prima Provedo a spennellare Sopra La treccia stessa Ci aiutiamo Anche con un cucchiaio È meglio fare Con il pennello Perché con le mani Insomma Non è molto comodo Io le uso Quando serve Ma in questo caso No Guardate che meraviglia Ho provveduto A preriscaldare Il forno A 200 gradi Inforniamo Per 30 minuti Via Ecco la treccia Sfornata Con il forno A gas Che io Ci è voluto Un po' più di tempo Dei 30 minuti Che avevo detto Ce ne sono voluti Circa 45 Di minuti Se ovviamente Avete il forno Elettrico Ventilato Con calore Sopra e sotto In 30 minuti Penso sicuramente Che E si cuocerà Comunque ecco Controllatela sempre Deve diventare Un po' dorata Così Quando è così È perfetta È pronta La lasciamo raffreddare Un po' E poi passerò Alla prova Di assaggio Ma già qui L'odore che viene Da urlo E ora Zin zin La prova di assaggio Ecco qua Eccola qua Con il pesto Distribuito Nel modo giusto E adesso Al fin Prende la licenza Buonissimo Vi saluto al volo Perché io Continuo a mangiare Alle prossime ricette Au Ciao